Cosa significa fare impresa oggi in Italia a mio avviso è soprattutto fare squadra. Fare squadra in azienda perché l'azienda è un luogo dove tutti insieme possiamo creare qualcosa di importante, possiamo creare quella ricchezza che poi ritorna sul paese in tante maniere diverse. Questo per me è veramente il valore più grande che l'impresa può dare a questo paese.